I centri estivi costituiscono un servizio di grande importanza per le famiglie, i cui entrambi i genitori lavorano. Terminato l'anno scolastico, chi non ha un sostegno parentale si troverebbe in grande difficoltà, a maggior ragione per le famiglie che si prendono cura di un figlio disabile o di una persona anziana non autosufficiente. A costoro giunge in aiuto un'iniziativa assunta dall'assessorato a welfare di comunità, che pubblicando un avviso di pubblico interesse è riuscito ad attuare una co-progettazione con alcune cooperative ed associazioni che prevede la valorizzazione dei servizi ricreativi extrascolastici per bambini e adulti disabili. Chi mette a disposizione il suo personale, chi le sue risorse, chi implementa i suoi progetti, chi organizza laboratori oppure opera nel mondo dello sport, valorizzare la socializzazione e l'integrazione sociale, rivolgendo attenzione allo sviluppo di capacità relazionali, soprattutto tra bambini e ragazzi con disabilità nel periodo estivo, è questo l'obiettivo che presentato insieme all'assistente sociale Sabrina Bonanni, si è prefisso l'assessore Dimitri Tinti. Promuovere, potenziare, valorizzare percorsi di inclusione di ragazzi, ragazze, bambini, bambine con disabilità e anche adulti in alcuni casi, proprio per farli partecipare nel migliore dei modi alle attività estive extrascolastiche, quindi in spazi aperti, protetti, sia nei centri estivi comunali, negli oratori, quindi tramite queste sinergie che si creano tra pubblico e privato sociale, in questo caso il terzo settore, si creano davvero nuove opportunità o maggiori opportunità. Quali sono le risorse a disposizione, sia dell'ambito che del comune di Fano? Allora, l'ambito ha messo a disposizione 21.000 euro e questi 21.000 euro derivavano da economie e da altre progettualità. Vanno a potenziare, a valorizzare l'attività, in particolare di 38 ragazzi, ragazze, bambini e bambine, di cui 15 a Fano e 23 negli altri comuni, in tutti gli altri otto comuni dell'ambito. Il servizio sociale associato del comune di Fano ha messo a disposizione ulteriori risorse, in particolare sono 43.000 euro, che vanno invece a sostenere l'attività inclusiva, appunto gli inserimenti, il potenziamento delle ore del personale nei centri estivi, di 56 bambini, bambine, ragazzi e ragazze e 22 adulti, sempre con disabilità. Quali sono in ultimo le associazioni, le cooperative che hanno risposto a questa manifestazione di interesse? Sono sette cooperative sociali, sono la cooperativa Cosmarque, la cooperativa Nuovi Orizzonti, la cooperativa La Macina, la cooperativa Gio e la cooperativa Poliscop. Poi ci sono tre associazioni di volontariato, che sono l'associazione AGFI, che è l'associazione Genitori e Figli per l'Inclusione, l'associazione Onfalos e l'associazione Papa Giovanni XXIII. Grazie. 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 Grazie.